La PETA, ovvero l'ente per il trattamento etico degli animali, ha pubblicato una guida per giocare a Dog Wars Legacy nel pieno rispetto della fauna locale. Con fringo! Vabbè dai, facciamo i bravi e vediamo ste regole. 1. Non cavalcare bestie volanti come l'ippogrifo, ma servirsi invece della classica scopa. 2. Non creare o bere pozioni realizzate con ingredienti animali. Ok, direi che 50 zanne di ragno dovrebbero essere abbastanza. 3. Non indossare indumenti confezionati con materiali di origine animale, come pellicce e piume e roba così. Perfetto, direi che con questa mi rifaccio tutto il guardaroba a versione invernale. No raga, veramente, scherzi a parte, gli animali vanno sempre rispettati, anche nei giochi. Ma Iogna, guarda che patatone è lui! Ma chi è il micio più pucciolone del mondo? Sei tu! E sei... E... E... Catevo gatto, catevo!